Cominciamo da una motorizzazione che consente di risparmiare oltre il 50% rispetto a un'auto a benzina. Parliamo del metano, un gas naturale che muove anche treni, navi e camion. Sono oltre un milione le vetture a metano in circolazione in Italia e aumentano anche le stazioni di rifornimento. È un gas che non necessita di essere raffinato ed è molto vantaggioso per gli automobilisti. Sia per il costo del pieno che consente a una famiglia di risparmiare fino a 1000 euro all'anno rispetto agli altri carburanti, sia per l'impatto per l'ambiente tanto che è quasi sempre esentato dai blocchi del traffico. Il metano azzera le emissioni di particolato, quindi azzera lo smog meno 97% rispetto alla benzina e al diesel e sostanzialmente dimezza la CO2. Quindi fa bene sia la qualità dell'aria nelle città, lo smog, che al riscaldamento globale riducendo la CO2. È la soluzione più immediata per ridurre l'impatto ambientale e sono tanti gli italiani che hanno convertito la loro auto da benzina a gas. In Snam lo hanno fatto con l'Alfa Romeo Stelvio. Abbiamo visto con la conversione di quest'automobile che le prestazioni possono addirittura migliorare. Sono 1300 le stazioni di ricarica in Italia, ma il piano di Snam è crearne altre 300 nei prossimi anni. Seat ci punta molto e ha svelato versioni a metano della Leone, dell'Ibiza e dell'Arona, che è il primo SUV al mondo a utilizzare questa alimentazione. Spendendo 3,50 euro si possono percorrere fino a 100 chilometri. Mentre la Fiat Panda a metano è stata recentemente premiata in Germania per i risultati raggiunti sul fronte delle emissioni.